Salve a tutti e bentornati a Puntocum, il momento di incontro del CUM Festival pensato per cercare di portare le tematiche che verranno affrontate durante questa edizione speciale del CUM al di fuori dagli spazi della mole vanvitegliana in cui si svolgono le attività in programma e di presentare al pubblico del CUM, ma non solo, queste tematiche mediante un confronto di esso diretto con il pubblico. Un aspetto che solitamente caratterizzerebbe e darebbe vita a una rassegna come questa, ma che a caso dell'emergenza sanitaria ancora in corso ci ha spinto a sfruttare il risorso digitale per raggiungervi. Tra parentesi questo è un argomento che ha affrontato proprio l'ospite che abbiamo qui con noi oggi, tra gli argomenti affrontati. Le interviste che si svolgeranno in questo spazio e di cui potrete usufruire comodamente dal nostro sito hanno quindi lo scopo di approfondire con i protagonisti del festival i loro interventi a vostro beneficio. Detto questo do il benvenuto al nostro primo ospite, la reverenda Elena Seiciniviani, è un piacere averla qui con noi, che ha appena terminato il suo intervento dal titolo «Nell'assenza ritroveremo l'essenziale». Elena Seiciniviani, lo ricordo, monoka buddista di tradizione Zen Soto, vive e insegna a Torino dove guida del tempio Enkusi e della sua comunità. Attualmente ricopre l'incarico di vicepresidente dell'Unione buddista italiana dove si occupa in particolare del dialogo interreligioso e interreligioso. È membro del Comitato Interfedi della città di Torino e del dialogo interreligioso monastico. Grazie ancora per essere qui, reverenda. Prima di parlare del suo incontro, le chiedo, come farò anche con tutti gli altri ospiti, in che modo e dove abbia passato gli oltre tre mesi di chiusura in Posti d'Algogiano a caso del coronavirus. Una domanda che possiamo definire leggera, così mi permette di dire, ma che ci permette assolutamente di introdurre gli argomenti di riferimento di questa edizione speciale del festival. L'ho passato a Torino, io ho un appartamento vicino al mio tempio e quindi l'ho passato da sola nel mio tempio con grande dispiacere di uno dei miei maestri che avrebbe voluto che passassi tutto il tempo in monastero. Invece mi ha accolto a Torino a distanza e quindi l'ho passato da sola in compagnia soltanto di due animali, il mio gatto e il mio cane. E il rapporto con la sua comunità è andato avanti? Sì, io non ho voluto fare delle... Non ho fatto... Non ho usato piattaforme informatiche, ne ho fatto lezioni, diciamo, video, perché penso che... Ho preferito che i miei allievi praticassero questo sicuramente, continuassero a praticare, ma che approfondissero in solitudine le nostre tematiche, le nostre pratiche. Ho pensato che fosse un momento molto interessante, più quello che avere delle... Diciamo, confortarli con delle lezioni, più o meno dal... Se non in presenza, dal vivo. Quindi ho lasciato loro la possibilità di studiare e di praticare in un altro modo. Bene, bene. Io stai se l'ho fatto. Bene. Passerei alla prima domanda che riguarda invece il suo intervento. Revelena, lei ha parlato del Covid come un'opportunità di risveglio che deve portare la consapevolezza di essere parte integranti del mondo, mondo di cui dobbiamo necessariamente prenderci cura, un'attività che dovrebbe diventare lo scopo e il senso di tutte le nostre vite. Lei pensa che in Italia oggi, a seguito del lungo lockdown vissuto, con l'emergenza coronavirus ancora presente, ci sia un risveglio più evidente di questa consapevolezza? Diciamo che lo speriamo. Lo speriamo tutti che ci sia. Non ho, francamente, non sono così ottimista, perché, come dicevo nel mio intervento, il cambiare delle abitudini, anche piccole abitudini, è una cosa veramente, forse è la cosa più complessa. E quindi non possiamo tanto illuderci di questo. Però diciamo che ci sono stati dei bei segnali, questo sì, questo sicuramente. C'è stato anche segnali commoventi di solidarietà e di collaborazione. Però, ecco, non vorrei che fossero legati solamente alla circostanza. Diciamo che il Covid, il coronavirus, come nella parabola che ho letto del Sutra del Loto, la casa in fiamme è la nostra casa in fiamme, il nostro mondo in fiamme. In qualche modo dobbiamo prendere consapevolezza, ci aiuta a prendere consapevolezza di dove siamo ed a uscire, in qualche modo, dalla nostra individualità e pensare che siamo effettivamente un unico corpo. Forse il Covid ci ha restituito anche una certa umanità, in questo senso. Grazie. Trapprenzi la metafora della casa in fiamme, è davvero bellissima. Purtroppo non l'ho scritta io. Passerei alla seconda domanda. Nel suo intervento lei ha inoltre parlato della necessità di un nuovo tipo di conoscenza che si basi sulla connivenza. Io la definirei un tipo di conoscenza sinistetico quasi e che si contrapponga a una presunta realtà plasmata da una distorta narrazione che mira più a rassicurarci nelle nostre false sicurezze piuttosto che a farci aprire effettivamente gli occhi verso la verità. Qual è, secondo lei, la responsabilità dei media nella creazione di queste false prospettive che tendono a dividerci? Beh, anche questo, come accennavo durante il mio intervento, i media tendono in qualche modo a metterci in questa condizione di ipernormalizzazione, in qualche modo. Nel senso che c'è una tale massa di informazioni, tra l'altro molto spesso discordanti. Io credo che per tutti sia stato evidente il livello di confusione che una dose così massiccia di informazione ha generato. E quindi mi piacerebbe tornare un po' al, diciamo, un pochettino ad un uso delle parole più preciso, più puntuale, quando si dice, quando si usa un termine è quello, si rimanda a quello. Questo me lo auguro. Di fatto ha dato un grosso contributo dal mio punto di vista. Ma nel mio intervento non parlo tanto dei media in questo caso, ma parlo del sapere per il sapere, cioè un sapere più, diciamo, sistematico che in qualche modo erode invece questa connivenza che in termini positivi, non certo, ma vuol dire capirsi, capirsi, diciamo, semplicemente con uno sguardo, tra l'altro in questo tempo di coronavirus con le mascherine, è quasi d'obbligo, ma che fa parte della nostra umanità e questa conoscenza, questa esperienza della realtà, conoscenza della realtà che è comune attraverso appunto sensi, intelletto, ma che condividiamo e che non ha bisogno di grandi parole. Secondo me durante il coronavirus questo si è visto. Certo che però... Questo aspetto è emerso. Certo che però appunto i social media, ma anche i social media magari non aiutano, appunto nell'esperienza, in un certo tipo di esperienza. Non è il loro compito forse, diciamo che forse i media dovrebbero, cioè hanno un compito preciso, certo, e quello deve essere fatto con la migliore, con la maggiore integrità e onestà intellettuale, ecco questo sì, ma penso che questo, anche prima del covid, è un problema che abbiamo affrontato in vario modo. Certo, perfetto. Allora guardi, passerai subito all'ultima domanda, in modo tale da poterla congedare. Nella sua relazione, lei ovviamente ho posto l'accento sul rapporto che dovremmo avere con la natura, come dicevo anche nella prima domanda. Non di dominio, ma di connessione, anche in questo caso consapevole. Al di là dell'emergenza covid, che è stata totalizzante, non pensa che il coronavirus abbia reso però evidente quale sia il nostro disastroso impatto sulla natura. Mi riferisco in particolare all'abbattimento, che è stato anche poi ampiamente discusso sui media sempre, dell'emissione di gas nel corso del lockdown, quando giustamente eravamo a casa e non potevamo in alcun modo avere un... Sicuramente sì, perché tutti abbiamo, diciamo, siamo stati deliziate da ritrovarci, soprattutto durante il periodo del lockdown. Niente auto, quindi niente, diciamo, meno presenza umana, diciamo, nell'ambiente e c'è stato un risveglio della natura molto potente, molto forte, o perlomeno noi non lo sentivamo più, perché, diciamo, frastornati da tutti, da rumori e da altri interessi. Questo sì, sul fatto che il coronavirus ci abbia portato una maggiore consapevolezza, non sono così, se devo essere sincera, non sono così fiduciosa. Il primo documento sul, diciamo, su come il pianeta si stava muovendo, diciamo, sui danni, diciamo, al pianeta in termini ecologici credo che risalga al 72 e ad oggi stiamo ancora parlando di questo, quindi è evidente, non voglio essere negativa, ma ci sono dei processi lenti. Diciamo che il covid potrebbe aver dato una bella spinta, una bella accelerazione e in questo non possiamo fare altro che ringraziarlo ancora una volta. Tutto sommato non è così negativo e comunque anche con questo coronavirus, con questo covid dovremmo conviverci, quindi è molto meglio che ce lo facciamo amico. Grazie mille, è stata gentilissima, le auguro buon cum per quello che rimane e grazie ancora. a presto. Grazie a tutti.